Da Massiola fino alla Valformazza per vedere gli effetti di questa ondata di maltempo con frane e case allagate. Che cosa le è stato chiesto dal territorio? Prima di tutto una risposta veloce ai cittadini. I sindaci sono molto preoccupati per le attività, per chi ha perso la casa, per chi ha perso tutto. Gli allevatori abbiamo visto questa mattina una grandissima preoccupazione da parte di tutti. Dobbiamo dare la risposta prima di tutto a loro. Poi i sindaci sono preoccupati perché il problema è che per anni non si sono fatti gli interventi giusti. Oggi bisogna cambiare il modello, serve sicuramente un progetto idrico, chiamiamolo così, nuovo, che tenga conto che viviamo nel 2020. Non ci sono più i nostri contadini che fanno la legna, come si diceva, ma oggi c'è un problema importante che è l'evoluzione. Quindi serve un ragionamento importante di come lavorare sul toccio, di come lavorare nelle piccoli rigagne, nelle rie che ci sono di periferia. Oggi abbiamo bisogno di rispondere in fretta, quindi servono i soldi. Mi serve che il governo faccia la sua parte. Domani il Presidente Cirio sarà a Roma, porterà tutta la documentazione necessaria per far capire quanto è stata disastrosa qui in valle il terribile evento luvionale. Quindi dobbiamo avere i soldi per ricostruire subito e veloce. Lei oggi ha raccolto anche le testimonianze di persone che sono state profondamente colpite. Qualcuno ha chiesto, mi dia una speranza, perché sennò diversamente io mi metto l'anima in pace, possiamo dire. Certo sì. Io faccio mia questa disperazione. L'ho letta negli occhi, nelle persone, mentre mi parlavano, non ho la pelle d'oca. E questo ti fa capire quanto è desolante e quanto è brutto. Noi con forza, lo diremo al governo, con forza prenderemo le loro istanze come se fossero le nostre. Io non voglio mai promettere, però sicuramente faccio la battaglia più forte possibile, come è stata fatta per tante altre occasioni. Ho fatto sindaco dieci anni, sono stato con i bambini, con gli anziani, ho tagliato l'erba, ho pulito i fossi. Quindi queste cose qua non ce le devono raccontare, è ora di agire e di farlo in fretta. Per agire lei ha detto usiamo il modello Genova, un commissario che venga qui e si adoperi per risolvere questi problemi. Certo, abbiamo visto che Genova ha funzionato molto bene, il commissario ha pieni poteri. Qui servono persone serie che non badano tanto al sottile, dobbiamo arrivare a dare risposte in fretta. Quindi io credo che la soluzione di un commissario che abbia i pieni poteri possa permettere alla vallata di rialzarsi in fretta.